Benvenuti a tutti all'interno della mia casa, sono Francesca Blasi. Ho pensato di realizzare questa rubrica per raccontarti un po' quelle che sono state le idee di trasformazione e anche la messa in pratica di quello che ho realizzato all'interno di tutti gli ambienti che vanno a comporre questo spazio. Perché devi sapere che circa sei anni fa, una sera, non riuscivo a dormire, mannaggia me, e iniziai a sfogliare una di quelle riviste che mi avevano catturato a livello emozionale moltissimo perché sfogliando queste riviste sul country, lo shabby chic, mi sono accorta che le ambientazioni che erano al loro interno rispecchiavano davvero in qualche modo una parte di me, un mio modo di sentire e di essere. Così guardando quelle immagini ho cercato in qualche maniera di rivederle all'interno dei miei ambienti ma francamente erano così diversi, così tanto più scuri, gli ambienti che vedevano avevano delle atmosfere quasi calde, molto armoniche nelle tonalità, tonalità molto chiare, naturali, colori estremamente diversi da quelli che appartenevano al mio ambiente, che era fatto di cotto scuro nei pavimenti, di pareti colorate ma su quello francamente non trovavo una grande difficoltà nel ridipingere le pareti. Il problema erano proprio i mobili che andavano a comporre lo spazio, che erano veramente in uno stile etnico quindi estremamente scuri, giallognoli, insomma uno stile completamente diverso. Ma non ho smesso di sognare e di desiderare di vivere in un ambiente di quel genere tanto che francamente non ti nascondo che non pensavo avrei potuto trasformare i miei ambienti come oggi li ho trasformati. Iniziai a sperimentare attraverso un tutorial trovato su queste riviste, su una cornice che avevo appunto in camera da letto e che proprio non mi piaceva nella maniera più assoluta e in quella notte famosa in cui pioveva fortissimo fuori iniziai proprio la sperimentazione con delle vernici tra l'altro che avevo in casa ma insomma volevo provare, volevo vedere cosa saltava fuori. La mattina quando mi sono svegliata e ho rivisto con la luce del giorno quello che avevo realizzato sono rimasta così colpita che ho deciso che avrei iniziato la mia trasformazione dalla camera. Tanto tutto sommato la camera da letto era un ambiente dove stavo soltanto io e francamente nessuno avrebbe giudicato l'opera o il lavoro negativamente. La mia paura inizialmente era proprio quella dell'approccio a mobili grandi quindi come scaffalature importanti, come mobili più importanti che erano presenti e sono presenti qui all'interno magari del salotto. Tanto che questa stanza dove ci troviamo adesso è rimasta quella che ha subito per ultima le trasformazioni che poi ho sperimentato all'interno degli altri ambienti. Dopo la camera da letto sono passata alla cucina e dopo la cucina al laboratorio che ho creato perché intorno a queste trasformazioni si è sviluppata poi una mia nuova attività lavorativa ma ti racconterò magari nei prossimi video. In questa rubrica parlerò a livello tematico di ogni ambiente quindi ti racconterò che cosa ho realizzato all'interno della camera da letto che cosa ho realizzato all'interno della cucina, come erano prima, come sono diventate e perché sono diventate così, quali sono state le linee guida che mi hanno portato oggi alla trasformazione e a vedere gli ambienti così come li vivo tutt'oggi. Pubblicherò un video a settimana all'interno qui della mia pagina professionale ARC Francesca Blasi e la ricondividerò poi sulle altre mie pagine Creazione d'Atmosfere e Corsi Shebby e successivamente verranno ordinati per categoria tutti questi video all'interno del gruppo chiuso Shebby Fusion. Se ti va puoi iscriverti a questo gruppo all'interno del quale ci sono persone magari che come te sono interessate alla trasformazione, a reinventare gli ambienti e all'interno del quale ci siamo sia io che le mie collaboratrici per poter appunto dare suggerimenti, nuove idee e scambiarci informazioni in merito a questo fantastico mondo della trasformazione. Allora ti aspetto al prossimo video che probabilmente terrò dalla mia camera da letto. Ciao, a presto! Ciao, a presto!